Insomma Damiano, i nostri video vengono seguiti da tante persone, questo ci fa sempre piacere. Un saluto a tutti resistenti della sinocia, Enrico Cervellera e Damiano Rielli in diretta da Resi Studio. Da Original, vero? Damiano, cosa vuoi dire riguardo questo freddo? Che ne è freddo? Sì, ve ne sarete accorti un po' in tutta Italia, insomma, il freddo sta aumentando. Comunque, cosa dire, giornata di grandi lavori nel Resi Studio Mobile, che stiamo uploadando al 4.0. Grandi novità, perché abbiamo introdotto il trigger su idea del maestro Rielli, trigger per la cassa della batteria e risultati già lampanti al primo ascolto, in senso positivo. Dunque, amici, continuate a vedere i nostri video, questo ve lo mandiamo così in diretta dal Resi Studio, come ci piace fare abitualmente. Vi ricordiamo il nostro sito www.facebook.com slash laresistenza e la nostra pagina facebook, laresistenza.it. Scoprite l'errore in questa frase e divertitemi. Cedo la parola al maestro Rielli. No, Damiano, in questo video devi dire qualcosa di significativo. Chi vuoi salutare tu stavolta? Dai, facciamo il suo passeggio. E' vero, è vero, una grande re-entry sulla Resistenza questa sera. Sergio Montesardi, che ha iniziato un'attività di collaborazione con il maestro Rielli, lo salutiamo, vecchia conoscenza della Resistenza, grandissimo chitarrista, cercatelo insomma su YouTube. Quindi state con noi, io resisto se tu resisti, Damiano Rielli, Enrico Giardellera.